Abbiamo usato la schiuma da barba, adesso usiamo le bolle di sapone Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Oggi un video davvero bollicioso E si ragazzi, perché oggi decoreremo la carta a mo' di carta marmorizzata Ma direi più che altro un decoro così bubble, un bubble design Ecco, guarderemo la carta, sì avete capito bene, col sapone ed esattamente col sapone per i piatti Prima però voglio farvi un invito, vi invito ufficialmente a seguirmi su Instagram Qui giù nell'info box trovate il link diretto al mio Instagram e vi invito anche sui miei canali 2Q1K e Ombretta, se non siete ancora iscritti questo è il momento giusto per farlo Stanno apparendo qui dove c'è l'ai col pallino Vi invito anche a condividere sempre i video e a mettere un pollice in su se vi piacciono Bene, fate le raccomandazioni d'obbligo Adesso passiamo al tutorial vero e proprio Andiamo a decorare le carte con la schiuma Sì, con delle semplici bolle di sapone Andiamo di là e vediamo come si fa Ed ecco l'occorrente per creare la nostra pittura con le bolle La bubble paint, ottima per fare dei fondi per dei bigliettini o delle composizioni molto carine Cosa ci occorrerà? Del sapone per i piatti Detersivo per lavare i piatti Poi acqua Un po' di zucchero Ora non so se ci vada lo zucchero di cocco piuttosto che l'aspartame piuttosto che altre classificazioni di zucchero Io per zucchero intendo dello zucchero raffinato bianco anche perché non deve tingere e far virare il colore Delle ciotoline, un cucchiaio di plastica, delle cannucce, poi dei colori acrilici che più preferite e una carta che regga l'umidità Io qua ho una carta da disegno da 180 grammi Cominciamo subito e cominciamo a preparare due colori Allora per la miscela base ci vuole un cucchiaino di zucchero per ogni colore Uno e due Pari quantità di detersivo Io ne metto un cucchiaio grande in uno e un cucchiaio grande nell'altro Quindi è un cucchiaio di detersivo e un cucchiaio di colore acrilico Qui ne faccio anche un altro con un terzo colore Non avevo la ciotolina, lo preparo qui E adesso allungo con dell'acqua Due parti di acqua Quindi la ricetta è un cucchiaino di zucchero Una parte di colore, una parte di sapone e due parti di acqua Mescoliamo ben bene il tutto E adesso cominciamo a fare le bolle Prendiamo la nostra carta E facciamo bolle Durante la fabbricazione delle bolle Poggiamo la carta Prendiamo la carta Ok facciamo asciugare in piano Cambiamo colore Arancione Urbricazione delle bolle Un altro Un altro Urbricazione delle bolle Un altro Funisco Un altro È uguale Poggiamo in piano, cambiamo colore. E poggiamo, facciamo asciugare. E adesso mescoliamo i colori tra di loro. Musica Voilà, bellissime, bellissime, bellissime. Mi piace un sacco questa tecnica. Certo, subito dopo tutti bagno, assolutamente. Mi raccomando, non aspirate ma soffiate, soffiate, soffiate. Guardate che bello questo fondo. Musica 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 Adesso lascia asciugare e noi ci vediamo subito dopo. Le nostre carte, come vedete, si sono asciugate. Adesso trasformiamole in bigliettini. Pieghiamo in due. Tagliamo la porzione che ci serve. E scriviamo il nostro bigliettino. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rendete speciale ogni giorno dei vostri amici con le vostre card fatte con le bolle. Bene, vi lascio le foto, ci vediamo dopo. Ciao! Visto che divertente e che bello! Dei vostri bambini si divertiranno a soffiare come dei pazzi tante bollicine colorate per poi imprimerle sulle carte. Sono delle carte che comunque risultano bellissime e che sono poi utilissime per fabbricare scatoline, confezioni, agendine, quaderni, tutto quello che la vostra fantasia partorirà. Anche semplicemente delle card augurali, usarnole come fondi per delle composizioni da porre sopra. Insomma, sbizzarite la creatività in questa calda estate e non dimenticatevi mai di divertirvi col colore, anche all'aperto, anche in estate. Io sarò con voi tutta l'estate, quindi ci rivediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!